Conosceva la signora? Sì, era la titolare del tabacchino di qui. Che persona era? Un'ottima persona, sempre disponibile, quale più volte una tua moglieva di vivote, una bravissima persona veramente. Che aria tira a Foggia dopo l'ennesimo omicidio? Che aria? Si sa quello che succede qui a Foggia, è una città che ormai non sta più sotto controllo, anche se si parla, si dice, però di fatti a volte in gira restano sempre quelli. Cioè non si sta più tranquilli. Se una persona non può avere una tabaccheria, perché magari è di un'angariata, non so chi possa essere stato, vuol dire che non si deve bene. Si parla di una rapina finita male, qualcuno sa qualcosa? Certamente ci sarà qualcuno che saprà, ma che si può dire.